ciao a tutti da maurizio benvenuti a recensito oggi parliamo a chi ha una moto caffè racer retro o moderna o una moto naked e cerca un guantino tecnico non troppo costoso certificato con una bella finitura e proprio per questo vi mostro b fast mad max e interceptor allora il mad max è questo un po più tecnico un po più aggressivo appunto con un nome evocativo e poi abbiamo l'interceptor che invece questo sulla mia sinistra ma partiamo subito con il mad max tra i due è quello un po più particolare allora intanto pelle bovina 0 7 mm per entrambi i guanti sia per il mad max che per l'interceptor ovviamente questo è un guanto che si presta a un pubblico marea una naked moderna o appunto una caffè racer un po più attuale perché vedete ha le protezioni sulle nocche rigide e anche sulle dita e un design comunque più aggressivo rispetto all'interceptor dicevamo protezioni rigide su nocche e dita e poi l'imbottitura del palmo indossandoli cosa notiamo subito intanto abbiamo una pelle molto morbida una buona imbottitura della parte più alta ma anche della parte bassa quindi anche molto morbido imbottito in questa parte di solito questi guanti hanno il palmo un po sottile quindi con imbottitura minima dicevamo certificazione di livello uno sia per il mad max e sia per l'interceptor come taglia come siamo questa è una l e diciamo che corrisponde a verità quindi corrisponde a una l tradizionale quindi potete andare a colpo sicuro anche se come sempre il consiglio quando decidiamo di acquistare un casco un guanto uno stivale o una giacca e quelli di provarli il prezzo del mad max qual è 69 euro più iva altre cose da notare di questo guanto sono queste protezioni morbide sul pollice e poi abbiamo una sufficiente porzione traforata sia sulle dita che sul dorso e poi abbiamo anche queste piccole fessurine per permettere un po di afflusso di aria anche sul sul dorso della mano e poi la chiusura con il velcro per quanto riguarda la taglia questa è una l corrisponde a una l tradizionale quindi è verità le dita sono lunghe il giusto e non ci sono particolari fastidi sulle nocche e neanche sulle dita perché molte volte i guanti che hanno queste protezioni sulle nocche soprattutto perché la mano magari un po magra come la mia danno un po fastidio chiusura velcro abbiamo detto poi guardate anche una bella protezione posteriore rispetto alla protezione delle nocche quindi un bel guanto sicuramente il prezzo di vendita è di 69 euro più iva passiamo all'altro guanto l'interceptor dicevamo un guantino un po più classico guardate una bella forma forma retro con il soffietto vedete per il rendere un po più agevole il movimento e il recupero dello spazio quando si muove la mano visto che ci sono le nocche rigide forma classica chiusura con il velcro una maggiore superficie traforata rispetto al mad max e sicuramente dicevamo una linea molto più classica per chi ha una triumph o una guzzi è un bel guanto anche questo la taglia è una l corrisponde anche questa a una taglia tradizionale ha le dita leggermente più corte quindi andate a provarlo comunque e anche in questo caso una buona imbottitura del palmo questo non è tanto perché c'è un imbottitura all'interno ma perché la pelle è molto morbida ha un buono spessore e quindi la sensazione davvero di grande comfort dicevamo protezioni rigide sulle nocche non si vedono sono annegate sotto la pelle quindi un bel design vintage e poi protezione morbide sulle dita anche in questo caso la certificazione è di livello 1 il prezzo è leggermente inferiore al mad max di poco 65 euro più iva per le taglie sono tutte quelle che vedete ovvero andiamo sia per il mad max che per l'interceptor andiamo dalla s alla xxl e poi ho acceso una lampadina ovvero perché dovreste acquistare questi due guanti quindi il mad max e l'interceptor e le ho rassunte qua i motivi la pelle morbida indossabilità è ok poi sono guanti certificati e il design merita sicuramente un voto alto l'ultimo consiglio che vi do è quello da non trascurare di andare a visitare il sito www.motoabbigliamento.it facilissimo da ricordare perché perché motoabbigliamento.it è distributore di bifas ma poi distributore di tutto il mondo moto per quanto riguarda abbigliamento troverete davvero di tutto caschi giacche scarpe stivali a dei prezzi davvero 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 interessanti quindi www.motoabbigliamento.it e poi come sempre continuate a seguire i nostri canali social facebook instagram e poi seguite il nostro canale youtube ma anche quello di auto perché è davvero interessante ci sono sempre nuovi video quindi non solo quello di moto io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di legge in sito intanto io decido di prendere su gli interceptor mi prendo una bella giacca vintage che ho di là un caschettino e vado a farmi un bel giro in moto e poi ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao